Musica Ingresso in campo, prima giornata, Super5 si affrontano mappette contro abusivi e tre squadre si dirigono a centrocampo a avere l'incontro, Sandro Stanziano, a nostra destra in maglia blaugrana, gli abusi, gli fc abusi, la nostra sinistra in maglietta gialla in mappette, ecco il saluto per tutti gli operati al TN di Stadium e ora il saluto fra le due squadre. Musica Ragazzi, consueto tocco dai due capitani, da una parte Paolo Hizzo, brava tra l'incardi Armando Paolo, tocco pari che ti spesso, va Se si fa le campi in bocca al lupo, alle due squadre musica veni render i e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.